Ciao a tutti ragazzi, ecco che ho trovato in questo nuovo video, in questo terzo video di Minecraft vi mostrerò come fare il pupazzo di neve, infatti guardate uno ce l'ho già in casa vediamo se non è morto, eccolo qua, bruttissimo come sempre, guarda, no? comunque ragazzi, vi mostrerò appunto come fare il pupazzo di neve avrete bisogno di una pala per sballare appunto la neve che io ho là dovete prendere le palle di neve, poi andare qua sulla crafting, andare sulla terza riga, cioè sulla terza colonna e vedete qua che c'è la neve adesso non la posso fare perché ne ho già 18 cubi, due li ho già piazzati qua e dopo dovrete piazzarci, dopo questi due vedete così, dovete piazzarli così a colonna diciamo e dopo ci saltate sopra e fate così ed eccolo un po' che si è creato il vostro golem adesso a me questo golem non serve, quindi lo ucciderò che tra l'altro vedete, dopo che l'avete ucciso vi darà appunto anche le palle di neve vedete? ce ne andate 12 qui intanto ce n'è un altro, vedete che l'ho fatto anche prima, ve l'ho fatta vedere anche prima e basta, il video può riuscire terminato perché questo video voglio solamente farvi vedere questa cosa qua e anche il mio amico prima ecco qua ops quindi il video può terminare aspetta voglio terminare in un modo così bello, mi piace sì i video di minecraft li finisco qui perfetto ciao veli